Lui prendere il treno e venire a Subbiano, venire al centro per lui era libertà, quindi quella è una cosa che gli è mancata tantissimo. È stata una fatica speciale per i diversamente abili e per le loro famiglie il periodo del lockdown durante il quale erano ovviamente chiusi anche i centri diurni che solitamente queste persone frequentano per tantissime attività, prima fra tutte la socialità. Adesso i centri sono stati riaperti seppur con delle importanti limitazioni ma per loro e per le loro famiglie è come tornare piano piano alla vita. Non vedeva l'ora, lui è stato felicissimo di riniziare anche solo un giorno alla settimana ma per lui è stato importantissimo. Il nostro viaggio parte dal centro L'Accordo nel comune di Subbiano Basso Casentino. Sicuramente essere accolti, essere uno a uno è stato un po' spiazzante perché loro vengono qua per trovare gli amici e socializzare. Poi c'è la grande difficoltà di fare tutti i passaggi, il tappetino, l'igienizzazione. La grande difficoltà poi diventa la mascherina che è veramente un ausilio invadente per loro. La ripartenza anche di questo tipo di attività, quanto è importante per lui? Per lui e anche per i familiari in generale, per lui tantissimo, infatti aspetta questo momento e la mattina si sveglia anche di buon'ora e si prepara volentieri. E poi anche per la mia mamma perché diciamo nonostante gli diamo a volte il cambio ma insomma se lei sa chi è qua si prende quelle due ore di tempo per fare anche un po' le cose che lei vuole fare. Ecco perché è quella diciamo in prima linea rispetto anche a me che sono la sorella. Nella zona sociosanitaria di Arezzo, Casentino e Valtiberina sono 14 le strutture che sono state riaperte. Ognuna di esse ha scelto una strada diversa in base agli spazi a disposizione all'organizzazione e alle esigenze di disabili e famiglie. Per esempio questi due centri Falciai e Villa Tianinis che sono due centri a gestione diretta della ASL in compartecipazione con il comune di Arezzo, ancora prima della delibera della regione toscana che ha dato il via alla ripresa dell'attività dei diurni, hanno avuto grazie ad un protocollo stipulato ad hoc con la cooperativa Progetto 5 la possibilità di offrire delle attività di supporto e sostegno a domicilio degli utenti. Quindi nella fase di chiusura comunque questi due centri non sono mai stati effettivamente chiusi perché gli operatori si recavano a domicilio, sempre laddove le famiglie volevano, a seconda delle necessità e con dei progetti formulati ad hoc su ogni singola persona. Conoscevano i ragazzi che per loro è come una seconda famiglia, quindi non hanno avuto quella interruzione e si sono risentiti sempre come di nuovo a casa. In questo momento ci sono otto persone a Falciai e sei persone a Villa Chianini, che sono più o meno la metà delle persone che possono frequentare il centro. Le altre ricevono chi assistenza telefonica, chi assistenza domiciliare, per chi configurando con gli assistenti sociali un programma individuale ha ricevuto questa possibilità e con gli altri cercheremo un ingresso graduale all'interno del centro. Chi è il tuo migliore amico? Hai una persona che... Chi è? È Giuseppe. L'hai rivisto Giuseppe dopo la quarantena? Ancora non l'hai rivisto? Mi manca, manca tanto. Una cosa che ovviamente non c'entra niente con il centro, ma dal punto di vista proprio del governo centrale, insomma, le famiglie sono state secondo lei considerate o non sono state considerate? Soprattutto le famiglie di persone diversamente abili. Secondo me non sono state molto considerate, perché noi ricevevamo telefonate dagli operatori del centro, dall'assistente sociale, per qualsiasi bisogno, ma le istituzioni sono state solo queste, basta.